Ebrei, ebrei neri nello Stato di Israele Cari amici, come l'umanità si divide in uomini bianchi, uomini neri e uomini gialli così anche gli ebrei si dividono in ebrei bianchi, ebrei neri ed ebrei gialli e ci sono pure gli ebrei neri, stanno quasi tutti in Etiopia, sono chiamati falascia quando nacque lo Stato di Israele, dopo migliaia di anni di diaspora nacque lo Stato di Israele, subito dopo la seconda guerra mondiale e Israele cominciò a preoccuparsi degli ebrei neri, i falascia, che stavano in Etiopia e quindi cominciò a fare un ponte aereo, un ponte aereo, aeroplani che partivano da Tel Aviv andavano in Etiopia, caricavano gli ebrei neri, etiopi, i falascia, li portavano nello Stato di Israele però a un certo punto qualcuno dentro lo Stato di Israele deve aver rispolverato la Bibbia cioè il Vecchio Testamento dove gli uomini neri, diciamo così, vengono maledetti perché discendono da Cam, gli uomini neri erano i camiti poi c'erano i popoli arabi ed ebrei che erano i semiti poi i popoli bianchi come noi che erano gli ariani, indoropei, i giappeti e qualcuno in uno Stato di Israele ha rispolverato il Vecchio Testamento e ha visto che nel Vecchio Testamento gli uomini neri erano stati maledetti maledetti da Noè, da Noè perché Noè aveva tre figli Jaffet, Sam e Cam Cam aveva fatto una brutta cosa a suo papà Noè quando Noè una notte dormiva a mezzo ubriaco perché Noè è quello che ha inventato il vino per i greci il vino l'ha inventato il dio Dionis o Baco per gli ebrei invece il vino l'ha inventato Noè allora mentre la notte Noè, anche quello dell'arca, l'arca di Noè mentre dormiva ubriaco Cam andò lì dove papà dormiva perché voleva andare a vedere come aveva i genitali al mattino i fratelli di Cam che erano Jaffet e Sam fecero la spia e dissero al papà papà Noè guarda che il nostro fratello Cam ha fatto quella cosa lì questa notte è venuto a guardare i tuoi genitali se li avevi grandi o piccoli e Noè si arrabbiò chiamò i tre figli e disse a Cam Cam quello che aveva fatto quella brutta cosa di notte Cam io ti maledico i tuoi discendenti che si chiameranno Camiti i tuoi discendenti Cam che si chiameranno Camiti ci faranno tutti la pelle nera la pelle nera i capelli dici le labbra grosse grosse ci avranno un affare lungo 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 come le bestie e saranno schiavi schiavi dei figli dei tuoi fratelli Jaffet e Sam Guido nella Bibbia c'è scritto così c'è scritto così la Bibbia e disse che ne erano dimenticati quando nacque lo Stato di Israele se ne erano dimenticati di questo passaggio della Bibbia quando se ne ricordarono era già avviato era stato avviato il ponte tra Etiopia dove c'erano gli ebrei neri Falascia il ponte aereo e il Stato di Israele e allora si misero le mani nei capelli e che fecero? gli dice beh continuiamo a farli venire qua però sterilizziamo le ebrei nere le ebrei falascia le sterilizziamo le sterilizziamo e così non possono fare i bambini cioè gli ebrei neri possono continuare a fare quella cosa là però però le ebrei nere le falascia facciano quello che vogliono però non possono fare i bambini perché per gli ebrei bisogna sapere gli ebrei per gli ebrei si diventa ebreo solo se naci da mamma ebrea però se mamma tua è sterilizzata tu non puoi nascere è questo e allora io ho trovato delle notizie circa questa strana situazione degli ebrei neri dell'Etiopia i falascia che vengono portati a richiesta ovviamente sono gli ebrei neri dell'Etiopia i falascia che richiedono andare allo Stato di Israele ho trovato questa notizia e cioè che le donne nere le ebrei nere dell'Etiopia vanno in Israele e però devono prendere una pillola che le rende esteridi e poi sarebbe scoppiato un putiferio dentro lo Stato di Israele un putiferio però nessuno nessuno va a dire ciò che rivela Serafino Massoni e cioè che i giornalisti che hanno fatto questo putiferio e dovrebbero saperlo che nella Bibbia gli uomini neri sono maledetti perché discendono da Cam che aveva fatto quella brutta cosa la al papà Noè di notte era andato a togliere le lenzuola per vedere se Noè ce l'aveva lungo o corto tutto qua sono questioni sono questioni diciamo così sacri sacri è vecchio testamento capito? ok cari amici bene ok questa è la situazione in ogni caso le ebrei le ebrei nere dell'Ediopia non sono obbligate a prendere quella pillola possono fare a meno di andare nello Stato di Israele restano in Etiopia e possono fare in Etiopia tutti i bambini che vogliono va bene cari amici questa è la situazione io ho fatto le mie considerazioni e adesso voi fate liberamente le vostre i due articoli sui quali mi sono documentato io per correttezza per trasparenza e ve li metto come linea il risultato di questo video ok? bene a tutti tanti cari saluti